Ciao! Oggi impariamo ad usare la dizione cercando di evitare queste reazioni. Parla come mangi! Ma come parli! Se adesso vuole fare l'attore! In fondo i vostri amici sono abituati a sentirvi parlare in un certo modo, quindi non appena sentiranno una qualche piccola variazione nel vostro modo di pronunciare le parole, la loro reazione sarà di meraviglia. Possiamo controllare queste reazioni? Di certo non possiamo entrare nella testa delle persone, non possiamo minacciarle, non possiamo picchiarle, ma possiamo cercare di capire perché queste reazioni avvengono. La comunicazione umana è solo in parte verbale. Ciò che invece i nostri simili percepiscono molto bene sono i segnali che noi mandiamo. Perché? Perché sono molto più antichi rispetto alla comunicazione verbale. Quando siamo alle prime armi impieghiamo qualche centesimo di secondo in più per formulare una parola con la dizione corretta. questo mette subito in allarme il nostro interlocutore. Non è colpa sua, non è colpa loro. Ci sono un paio di milioni di anni di comportamento. Lo fanno, li fanno agire in questa maniera. Quindi torniamo a mettere le mani in tasca e ricominciamo a parlare. A proposito, tenere le mani in tasca mentre si parla con qualcuno non è una grandissima idea. Troviamo invece una strategia per evitare i commenti sarcastici. Alcuni ottimi trucchi sono 1. Applicare le regole di dizione mentre si ha il telefono. Ci vediamo alle 3. 2. Usare la dizione con persone appena conosciute. Mi sento bene. 3. Non esagerare. 14. 3. Bene. Abbiamo un solo modo per imparare la corretta pronuncia, esercitarci. Parlare in maniera diversa a seconda delle situazioni ci farebbe sembrare un pochino bipolari e comunque non funziona tantissimo, vi assicuro. Riepilogando, i trucchi sono 1. Applicare la dizione mentre si ha il telefono. 2. Applicare la dizione con persone che si sono appena conosciute. 3. Non esagerare. Bene. Nei commenti al video qui sotto vi indicherò perché generalmente questi trucchetti funzionano. Se volete scoprire alcune parole invece andate a vedere questi video. non dimenticate di iscrivervi al canale per avere le vostre pillole settimanali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.